Sono orgoglioso di me stesso perché non mi aspettavo che poteva diventare una cosa del genere, ma non voglio neanche montarmi la testa talmente tanto da dire oddio sono il re del mondo, ma sono un semplice ragazzino come tutti e voglio rimanerlo. Nelle parole di Tommaso Zotti di Campo San Martino, che ha portato in salvo i suoi amici guidando lo scuolabus quando l'autista si è sentito male, c'è tutta la semplicità e la spontaneità di chi fa del bene senza chiedere niente in cambio. È uno dei tre ragazzi padovani nominati dal presidente Sergio Mattarella al fieri della Repubblica lo scorso 24 febbraio. Anche la provincia di Padova ha voluto celebrarli e ringraziarli per il loro operato. Sono tutti ragazzi che sono impegnati per gli altri, che è una cosa importante, aiutare i suoi compagni, aiutare veramente tante manifestazioni di solidarietà e amicizia nei confronti dei terzi. Ricordo che Padova è stato come provincia, è stato anche capitale volontariato e questi sono tre gioielli che ha Padova e sono molto orgogliosi di loro. Ragazzi impegnati a scuola e nel sociale come Giulia Martinello di San Pietro in Gu, che ora sogna un futuro in aeronautica, ma che si impegna già nel presente. Ho potuto rivivere questa emozione qui alla provincia di Padova e sono contenta di poter rappresentare tutti i ragazzi del nostro Stato che fanno tantissime opere di bene per il prossimo. Io ho fatto nel mio piccolo qualcosa per la comunità di Vares in Bosnia, dove con il mio gruppo scout ho vissuto delle esperienze che ricorderò per sempre, cercando di donare un sorriso, semplicemente giocando con i bambini e i ragazzi di questo paese che ancora vive i ricordi della guerra che c'è stata appunto in Bosnia. Eroi per caso nella quotidianità che non vedono difficoltà, ma opportunità come di Letta Lago, di Cittadella. Fin da quando siamo molto piccole conosco una mia amica che ha una disabilità di tipo cognitivo, con la quale siamo amiche, semplicemente. Siamo in classe insieme e ci aiutiamo, lei ha qualche difficoltà a comunicare e quindi magari riusciamo a comunicare noi due, tante volte magari l'aiuto anche a fare tra virgolette un po' da interprete, però anche lei aiuta tantissimo me perché è solare, spontanea, semplice, poi è molto allegra, entusiasta delle piccole cose, quindi non sono solamente io che aiuto lei, ma anzi molto spesso è in contrario.